Come Jim Morrison diceva, la celebration of the lizard per me è la celebration of the python, quindi questa interpretazione a 360 gradi riguardo il pitone, quindi lo vediamo nei vari suoi aspetti. Il pitondry vuole essere il riprodurre il pitone verniciato, ma in questo caso noi abbiamo utilizzato una tecnologia moderna, abbiamo utilizzato il laser e gli abbiamo permesso di disegnare la livrea del pitone sulla pelle, sulla pelle di mezzovitello. E poi con un lavoro artigianale perfezionato è reso possibile questa livrea assolutamente unica e speciale, che qui vediamo i nostri colori twitty, golf e fiamma, quindi lo vediamo qui sulla nostra struttura chiamato la tour celebrity, naturalmente tutte le nostre donne sono celebrity, ma in ogni caso è uno dei modelli più gettonato dalle nostre star in Los Angeles. Fondamentalmente ritengo che ogni donna, quando si usa le nostre scarpe, si debba sentire un po' star.